e ciao a tutti ragazzi qui animofpro e oggi siamo in un nuovo video su draft 17 sarebbe la stessa cosa dei draft a cui iniziamo sotto cavani prendiamo prendiamo cavani un nuovo da cristiano ronaldo poi andrò a migliorare che vediamo 12 vabbè prendiamo il più forte che secondo me è tevez uini è statoz prendiamo dal silva iscu allora sai che cosa facciamo lo invertiamo ok e qui mettiamo vitolo o vitolo qui mettiamo in un caso perché non fanno schifo ok io vi mettere io direi di mettere inigo martinez qui e garai e come cosa io metterei navas ok andiamo sulle riserve sulle riserve vediamo che c'è prendiamo il più forte perché non c'è nessuno poi marcelo lb magari potrei mettere qui vedendo che mi fa più intesa molto più intesa sergi roberto pure così mi fa un po più o meno di intesa perché vabbè fa niente cdm potremmo mettere qui stelle stelle mamma mia voi vabbè che dire vabbè fai anche a teresa si lasciate perdere mettiamo in uno allora a me servirebbe un cam o un cm prendiamo il più forte hazard un cam ti prego oh però c'è rois cam ti prego ti prego vabbè rv messi no io lo metto qui no 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 cioè guarda da 90 a 92 ok un cam un cm prendiamo il sharaoui è ben finito ok ora andrò a modificare la squadra 3 2 1 bam bam ecco qui allora qui abbiamo messi cristiano ronaldo tevez isco iturraspe vabbè iniesta vitolo o vitolo marcelo inigo martinez garai e navas sui sostituti abbiamo cavani hazard che dia rois sharaoui a no jarte david silva e e vabbè li riservano ci servono un cavolo andiamo a finish e andiamo abbiamo un 181 ok 20 92 di attacco 87 di di difesa 85 e andiamo a giocarla fai ecco ecco già stiamo oh cristiano mamma mia se li perdiamo contro sti qui ecco oh no vabbè vabbè prima volta che mi esce un argentor raro normale vai raro siamo castiglie io vabbè vediamo chi vince secondo me a liverpool infatti ah questa non la salviamo poi my club i miei draft questi qui sono tutti quelli in cui ho vinto poi alla fine di questo video vi metterò le sculate più grandi e assurde che ho fatto andiamo nello store e apriamo uno di questi e ben due di premium pack tre allora prima apriamo i due di premium pack vai raro però è nuovo è un nuovo chi è? company company 86 popore otamendi buono ultimo oro uh chi è? oh black di nuovo black anzi guarda facciamo così bam chi è? eh andrea herrera andiamo con lo special pack raga io giuro appena apro non guardo più tre due uno via oddio isco oddio isco oddio 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 popore bugba è un altro if oddio 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 guardate qui nelle carte e poi guardate anche che ho ho cristiano ronaldo sanchez e blank il mio isco oddio 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 io direi che per questo video è tutto io vi ringrazio lasciate un commento e un mi piace e noi ci rivediamo ad un prossimo video oddio oddio raga 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 ho trovato una leggenda Dave ho trovato una leggenda mamma mia aspetta oh pure un if mi riapriamo questo oh un if ancora oddio chi è vabbè Jonas 87 e Ter Stegen addirittura vediamo il prossimo vabbè un'ora è un'ora 84 Andanovic pure Andanovic oddio 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 e ce n'è un altro vai oh un if ancora oddio un if ancora eh eh vabbè è pur sempre un if vabbè orro raro chi è Canté Canté è buono è buono Canté raro italiano Giovinco il nano de turno che schifo che schifo raga è arrivato che abbiamo fatto apriamo il premio e troviamo un'ora raro del cavolo ah oh che è Matic si chiede il cavolo beh buono 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 spagnolo Real Madrid Isco pure questo buono special pack io non sto guardando giuro che 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 non sto guardando 2 1 boom oddio Sanchez oh pure de marcos 84 oh mio dio ciao 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 ciao